eccoci dal notario abbiamo appena finito la stipula dell'atto notarile dei signori pizzalis chiedo a loro come si sono trovati con il lampetto compravendita immobiliare ci siamo trovati benissimo con la signora Elena rubetto è una persona disponibile che mette tranquillità nelle nello svolgere le sue le sue mansioni ci rassicura e ci fa stare tranquilli su tutto ciò che deve che segue ci ha tenuto informati di tutto sempre in anticipo perciò io la consiglierei occhi chiusi e se avessi una casa da vendere è sicuramente a lei che mi rivolgerei la ringrazio molto credo che sia fondamentale poter assistere i miei clienti in questi momenti che non sono per niente facili perché c'è sempre molta ansia preoccupazione tante cose tanti passaggi che magari sono difficili da comprendere e quindi è importante poter avere sempre qualcuno che possa rispondere e sollevare da qualsiasi preoccupazione soprattutto sollevare da quello che non sono le nostre competenze e si sta tranquilli cioè noi abbiamo subito detto mamma di precisione che veramente ci siamo trovati benissimo io all'inizio avevo un po' di tumore di timore prima di acquistare se mi ha detto mi ha proprio messo tranquillo mi ha portato avanti il tuo modo di fare ti porta e ci ha seguito fino al oggi certo bene sono molto contenta comunque anche ho avuto da parte vostra tanta collaborazione perché è ovvio che bisogna sempre lavorare insieme quindi vi ringrazio e vi auguro ogni bene nella vostra nuova casa grazie grazie a me grazie a me